Ciao amici del Bosco, oggi impariamo a leggere una fiamma per capire se la nostra combustione è corretta ed anche un trucco per vedere se la canna fumaria funziona bene. Per tutto questo siamo tornati nella bottega di Axel Berberich e utilizzeremo proprio una stufa a combustione mediante pirolisi per vedere le fiamme nei diversi momenti e valutare appunto qual è la fiamma corretta e vi faccio vedere intanto come accendere tra l'altro con Axel abbiamo appena realizzato un corso tutto dedicato alla realizzazione di una stufa di cui vi lasciamo il link. Noi abbiamo una stufa che funziona tramite pirolisi usiamo dei materiali organici che potrebbe essere il guscio di nocciole, potrebbe essere il pellet, potrebbe essere un cipato, possono essere tanti materiali come anche il nocciolo di pesca o di altra frutta. Ormai ho riempito un mix di questi due, qua vedete anche un po' di bucce di arancia anche quello si possono mettere tranquillamente in mezzo. Per accendere io uso l'alcol la metto in una tazzina di caffè verso sopra e dopo accendo. La prima fiamma che vediamo è quella della combustione dell'alcol, che caratteristiche ha? Sì, l'alcol sappiamo che è liquido, non ci sono delle sostanze come nella legna, vuol dire una fiamma molto pulita e si vede oppure si riconosce il suo colore tenenzemente blu. Il calore della fiamma dell'alcol riesce poi piano piano a scaldare anche il nostro combustibile e creare una uscita del gas dal combustibile e questo notiamo che piano piano la fiamma diventa gialla. Il gas praticamente del combustibile organico crea la fiamma gialla. Cosa ci indica della nostra combustione una fiamma gialla? La fiamma gialla, tendenzialmente se parliamo o della legna oppure parliamo di questi materiali più organici, è una composizione praticamente di quello che c'è dentro la legna, c'è dell'acqua che diventa idrogeno, c'è dello zolfo, ci sono delle sostanze che derivano dalla legnina che loro creano praticamente la fiamma gialla. Gialla vuol dire in verità luminosa, simile al sole. A guardare il fuoco ci si incanta, a guardare le sue lingue e anche le sue variazioni di colore. Cosa significa però quando una fiamma tende di più al rosso? La fiamma rossa è molto interessante e ci fa capire molto bene della qualità della fiamma oppure del fuoco, ci fa capire anche delle emissioni che probabilmente escono fuori. In verità la fiamma rossa non esiste se non ci sono sostanze metallici dentro. Noi possiamo fare il paragone col sole. Il sole di solito è acceccante, non è neanche giallo eccetera. Però sappiamo anche di alba oppure tramonto il sole diventa rosso. In verità non sono tre soli, giallo, rosso, arancione, è sempre un sole. Per il fatto che c'è tanta atmosfera di sera, tra noi che vediamo il sole e il sole stesso, la luce del sole viene tendenzialmente frenata con l'atmosfera e ci sembra dopo rosso. La stessa cosa vediamo anche con la fiamma perché la fiamma chiara, chiara, se c'è tanto fumo in mezzo, rallenta qua ugualmente la luce verso di noi e la fiamma ci sembra rossa ma non è rossa. Vuol dire se vediamo una fiamma rossa abbiamo una indicazione molto chiara che la fiamma è sporca, la combustione è sporca e inquina. La nostra combustione praticamente non è una combustione normale, tra virgolette, è una combustione spontanea come fosse una combustione dove mettiamo la legna dentro. Noi abbiamo messo in un cilindro all'interno il combustibile acceso sopra e piano e piano non riesce più a prendere dell'aria, dell'ossigeno dall'alto, vuol dire abbiamo una piccola carbonaia all'interno dove sale all'interno del cilindro del gas, del fumo. Invece in alto si vede anche lateralmente può entrare dell'aria nei fori dove si accende poi dopo questo fumo. Qua davanti ce l'ho praticamente due serandine, due possibilità di regolare la quantità dell'aria. Sotto regolo praticamente la quantità del gas, più o meno gas. Invece sopra posso permettere di far entrare più aria o meno aria che entra poi sopra per accendere il gas. E si vede ad esempio anche se io chiudo completamente, vuol dire il fuoco non ha più ossigeno insufficienza per bruciare bene, la fiamma diventa all'improvviso più alta, vuol dire brucia in un tempo più lungo e contemporaneamente vediamo anche che diventa più rossa, vuol dire non si accende più tutto il gas. Si dovrebbe vedere bene e poi se apro dovrebbe essere poi, certamente più lascio chiuso più rossa diventa, più sporca anche la combustione, inquina di più. Invece se apro vediamo la differenza che la fiamma oppure tutto il fuoco diventa più concentrato. Se vediamo la fiamma rossa sappiamo che c'è tanto fumo ancora che non riesce a diventare fiamma e tutto quello diventa dopo anche fulicine. Vuol dire se si sporca la stufa oppure al contrario, se abbiamo la fiamma rossa sappiamo anche che la stufa si sporcherà tanto oppure la canna fumaria. Se abbiamo la fiamma chiara sarà anche molto meno che la stufa si sporca. Quando abbiamo una fiamma rossa siamo in realtà di fronte ad un'illusione ottica, stiamo vedendo che ci sono molti fumi che non ci permettono di vedere bene la nostra fiamma. Più la fiamma è gialla o addirittura trasparente e meno di questi fumi stiamo producendo e quindi stiamo inquinando meno. C'è un'altra possibilità, una fiamma azzurra, l'abbiamo visto prima in fase di accensione utilizzando dell'alcol, però possiamo ottenere una fiamma azzurra anche in altre condizioni. La fiamma blu in verità è un fenomeno che dipende molto al tipo di combustibile. Come ho detto prima, l'alcol non ha delle stesse sostanze come la legna, allora di suo è più puro, più trasparente, non crea una fiamma illuminante. Con la legna è una cosa simile perché all'inizio del fuoco bruciano più le sostanze dove c'è anche l'idrogeno in mezzo che si lega poi dopo col carbonio, diventano delle catene simili al metano. Comunque ci sono delle fiamme più illuminanti. Più va avanti un fuoco normale, spontaneo, qua nella pirulisi ancora più visibile, più sono esaurite queste prime sostanze, che sono anche più infiammabili, vuol dire gassificano prima, più piano piano cala anche la percentuale della fiamma gialla. Si vede adesso probabilmente tra un'ora, si vede proprio che c'è più un mix tra fiamma più blu e fiamma più gialla o chiara. Finché non arriva proprio il momento che tutto è esaurito, rimane veramente solo il carbonio. E quando abbiamo solo le carbonelle, il carboncino, il carbonio, abbiamo alla fine anche come emissione il Cu2, vuol dire l'ossicione che arriva, aiuta la combustione. Il carbonio, il C, si lega con l'ossicione, in abbondanza diventa Cu2. E la fiamma in questo momento diventa trasparente, che ci sembra blu. Immaginiamoci, se noi di notte guardiamo nel cielo, vediamo lo spazio e tutti sappiamo benissimo lo spazio è buio. Invece, se guardiamo di giorno, nessuno viene il dubbio di dire il cielo è blu. Lo spazio dietro è uguale, anche in questo caso. L'unica cosa che cambia, che è l'atmosfera praticamente della Terra, tra noi e lo spazio buio, è illuminato di giorno. Vuol dire che l'atmosfera diventa come una lente che ci fa sembrare il buio blu. Vuol dire che se noi guardiamo attraverso un'atmosfera illuminata, vediamo il buio blu. E la stessa cosa vediamo anche nelle fiamme. Dove entra, si vede anche adesso un pochino, dove entra l'aria, a toccare praticamente il gas per accendere, la prima parte, anche in una fiamma di una candela, la prima parte ci sembra spesso blu. Però è la parte non ancora accesa, vuol dire che il gas è trasparente e dopo viene l'accensione, vuol dire la fiamma gialla. Se io mettessi, fate pure anche la prova a casa, se accendiamo una candela, mettiamo dietro una carta nera, che vediamo proprio quella parte sotto, è proprio blu. Cambiamo la carta, mettiamo una carta proprio bianca, vediamo all'improvviso, ma proprio da un momento all'altro, questa parte blu, non è più blu, è trasparente. Per gestire bene la combustione delle nostre stufe, dovremmo considerare un'altra variabile importante, che è il tiraggio della canna fumaria. Si può calcolare in maniera esatta attraverso un tecnico, ma lo si può fare anche con un metodo empirico, che adesso ci spiega Axel. Noi certamente adesso non abbiamo proprio la canna fumaria, però facciamo finta, questo sarebbe lo spatello di ispezione di una canna fumaria. A me serve soprattutto quando devo fare praticamente il progetto per una stufa, per capire se il tiraggio è forte o non è forte, come devo dimensionare la stufa stessa. Allora, io tendenzialmente prendo lo spatello, la apro appena appena di un centimetro, prendo l'accendino e mi avvicino e vedo poi dopo se la fiamma si piega o no. Adesso col fuoco dentro il tiraggio è forte, allora si piega quasi a 90 gradi. Può piegarsi a 90 gradi, a 45 gradi, oppure anche meno. Se rimaniamo a meno di 45 gradi abbiamo un tiraggio debole. Se abbiamo più o meno 45 gradi si può parlare di un tiraggio medio normale. Se va fino a 90 gradi, certamente un tiraggio forte potrebbe andare fino al punto che la fiamma si spegne, soprattutto quando le case sono alte e la canna fumaria va fino a 10 metri. E rispetto a questo tiraggio vado a dimensionare proprio la struttura, la lunghezza di giri fumi e altro. Se la fiamma rimane perfettamente verticale invece, vuol dire che non c'è proprio tiraggio, quindi c'è qualcosa che sta ostruendo la nostra canna fumaria. Un altro consiglio che posso darvi è più proprio quando accendo la prima volta la stufa. Tanti conoscono proprio il disaccio quando la stufa fa fumo. E questo spesso alla fine della stagione dell'estate. Se fuori tutto il giorno c'era sole, può essere che fuori più caldo che all'interno della casa e naturalmente il tiraggio va al contrario. Chi vuole essere sicuro prima di accendere fa la stessa cosa. In questo caso lo spattello della stufa apriamo, e possiamo controllare sempre con la fiamma se tira o non tira. Oppure anche come qui con la presa d'aria. Qua vediamo proprio che la fiamma si piega bene. Se anche questo può succedere, la fiamma vi viene proprio incontro. E questo nelle situazioni, come appena detto, c'è una depressione, vuol dire c'è una caduta dell'aria. Non provate ad accendere. A fine estate, se volete iniziare ad accendere, accendete magari la prima volta una volta di mattina. e si accende bene sempre la mattina prima che esce il sole. La stufa nel frattempo si scalda pochino. Appena la stufa dentro, almeno tiepido, il tiraccio va sempre. L'altra possibilità potrebbe essere, se avete la canna fumaria con una ispezione, prendete la carta di giornale, accendete direttamente dentro la canna fumaria, questo giornale e così si libera praticamente la canna fumaria, la stufa poi dopo tira. Spero che questi consigli vi siano stati utili, li seguirete perché hanno a che fare sia con l'inquinamento che noi produciamo quando utilizziamo una stufa per riscaldarci o per cucinare il nostro cibo, sia per risparmiare, perché utilizzando al massimo il potenziale calorifero dei nostri carburanti riduciamo i consumi, quindi spendiamo anche meno. Se siete interessati alle stufe ad accumulo e alle stufe a combustione mediante pirolisi, vi ricordo il corso che abbiamo realizzato insieme ad Axel, vi lasciamo il link per andare ad informarvi meglio. Abbiamo visitato il laboratorio di Axel, ci siamo fatti insegnare un sacco di cose, è veramente un corso ricco di informazioni utili su questo argomento. Vi lasciamo anche una risorsa gratuita che potete scaricare sempre attraverso il link qua sotto per avere maggiori informazioni. Grazie Axel, veramente. Grazie a voi che ci avete seguito. Axel, come si dice in questi casi? Iscrivetevi sul canale. Nel Bosco di Ogigia. Ci vediamo al prossimo, ciao!